Buonasera, bentornati al nostro appuntamento che attraverso i nostri servizi ripropone alcuni dei fatti e dei temi principali della settimana. Partiamo dalla cronaca con una vicenda che ha fatto molto scalpore quella di una infermiera che è stata arrestata per circonvenzione di incapace dopo aver prosciugato il conto di una donna che assistiva. I particolari sono stati resi noti in una conferenza stampa dei carabinieri. Vediamo. Per lei, quell'infermiera dell'ASL che la curava dal 2001 e che da dopo la morte della madre nel 2011 andava spesso a farle visita anche solo per salutarla, era come una seconda mamma. Mai avrebbe pensato che in un anno e mezzo quella donna le avrebbe prosciugato il conto lasciandole 70 centesimi. È stata l'eredità di 60.000 euro di cui gli aveva parlato ad ingolosire l'infermiera che ha cominciato a chiedere con insistenza un prestito per ristrutturare la sua casa con la promessa di restituirglieli. Promessa non supportata però da documenti ufficiali né da transazioni tracciabili perché, a detta dell'infermiera, se l'avessero saputo al lavoro l'avrebbero licenziata. Ogni mese le due donne andavano all'ufficio postale a prelevare il denaro che poi finiva sul conto del figlio 24enne dell'infermiera, oggi indagato per riciclaggio. Sequestrati i soldi sul conto corrente, un motorino e un'automobile. La 54enne di Riccione, invalida civile, con una pensione di 280 euro al mese, ha deciso di denunciare solo a gennaio 2014, spinta dall'assistente sociale con la quale si era confidata in lacrime. Da lì abbiamo scoperto che la donna per circa due anni è stata vittima di questa infermiera dell'Asde che le ha sottratto 60 mila euro per la ristrutturazione di un suo appartamento. A quel punto abbiamo sentito un po' di persone informate sui fatti e abbiamo chiesto la custodia cautelare a carico della donna all'autorità giudiziaria di Rimini che l'ha concessa in dato di erno. È una vicenda che poi è stata accompagnata da un altro caso di circonvenzione di incapace, questa volta è avvenuto a Pennabilli dove per diversi anni un uomo invalido aveva versato soldi per delle donne che le avevano fatto capire che aveva possibilità sentimentali appunto con una di loro. Sono state denunciate una cinquantenne residente nel Casertano e le due figlie di 26 e 28 anni. Altra vicenda di cronaca, questa volta un'operazione della polizia stradale, ha visto un giro di patenti false che poi venivano rese genuine attraverso degli stratagemmi tra Italia e Bulgaria. Vediamo. 24 patenti sequestrate, 12 persone, tutti bulgari sopra i 30 anni, 3 le donne, indagati e due agenzie per pratiche auto di Rimini sulle quali sono in corso accertamenti. È l'esito dell'indagine portata avanti dalla polizia stradale riminese che ha compiuto perquisizione anche a Forlice, Sena, Ravenna e Siena. In sostanza gli indagati riuscivano ad ottenere con una patente falsa bulgara, quasi perfetta, una patente genuina italiana, sfruttando una falla nel sistema burocratico della motorizzazione civile. Attraverso la patente falsa, che veniva pagata fino a 1500 euro, veniva richiesto il tagliandino per poter guidare anche in Italia e visto che la Bulgaria è paese comunitario e non è ancora attiva una banca dati europea, il rilascio avveniva senza ulteriori verifiche. La procedura permette di generare una patente virtuale nel sistema informatico della motorizzazione. Dopo due o tre mesi gli indagati denunciavano lo smarrimento della patente, quella falsa ma col tagliandino regolare e così veniva fornita loro una patente italiana genuina. Queste persone di nazionalità bulgare hanno sfruttato proprio questo tallone di Achille ottenendo fraudolentemente 24 patenti italiane convertite da false patenti bulgare. La particolarità sta nel fatto che queste patenti sono tutte patenti da professionisti, quindi patenti che abilitano alla guida di mezzi pesanti, autotreni, autoarticolati. In due casi queste persone sono state assunte da ditte di autotrasporto per la conduzione di questi mezzi pesanti. Oltre alla patente riuscivano ad ottenere anche il CQC che è il certificato di qualificazione del conducente. Addirittura in alcuni casi ottenuta la patente italiana genuina si sono recati in Bulgaria per ottenere il CQC bulgaro e quindi poter condurre anche autobus con passeggeri. Con un grave rischio anche per la sicurezza. Di questo stratagemma sono state informate dalla Polstrada le motorizzazioni che hanno posto rimedio alla falla. Le indagini proseguono per capire se l'organizzazione criminale era ramificata anche in altre parti d'Italia, sequestrati nelle indagini anche alcuni passaporti e falsi certificati di revisione delle auto. In settimana sono arrivati anche i numeri dell'attività operativa per il 2014 della Guardia di Finanza di Rimini, numeri che confermano un'attività intensa su più fronti. Nel 2014 la Guardia di Finanza di Rimini ha denunciato per reati tributari 89 persone con sequestri patrimoniali per 1.860.000 euro, 262 le frodi all'IVA scoperte, 4 i casi relativi a fiscalità internazionale, 53 gli evasori totali. Quanto al lavoro sommerso sono stati scoperti 96 lavoratori in nero e 122 irregolari, 14 i datori di lavoro finiti nei guai. Per quanto riguarda i controlli sulla spesa pubblica, sono state denunciate 58 persone per aver chiesto o percepito indebitamente fondi europei per un totale di 1.419.000 euro, due le denunce per incentivi nazionali e due per irregolarità relativi ad appalti pubblici. Sono state controllate assegnazioni per 4,8 milioni, riscontrando somme oggetto di assegnazione regolare per 3,4, 42 le denunce per reati contro la pubblica amministrazione, 82 le persone segnalate per responsabilità amministrative legate a danni erariali, danni segnalati per un totale di 7,4 milioni, 26 le persone verbalizzate per violazioni relative a prestazioni sociali e ticket sanitari, con una frode accertata di 22.600 euro, 5 le violazioni in materia di scommesse e giochi, con 24 soggetti segnalati e il sequestro di due apparecchi da intrattenimento. Nell'ambito del progetto MP, che prevede l'applicazione di misure patrimoniali nei confronti di persone ritenute coinvolte negli interessi economici della criminalità organizzata e del riciclaggio, sono stati proposti i sequestri per 42,5 milioni e ne sono stati eseguiti per un valore di 26,1. Nel contrasto al riciclaggio sono stati eseguiti 15 interventi con 24 denunce, due in quello all'usura. Nella lotta all'abusivismo sono state denunciate 24 persone col sequestro di 3.800 prodotti, di cui 2.270 per contraffazione. Capitolo spaccio, arrestate 7 persone, denunciate 4 e sequestrate quasi due tonnellate di ascice e marijuana in uno sviluppo dell'operazione 100%. Il reparto aeronavale delle fiamme gialle nel 2014 ha individuato lungo la costa riminese 150 violazioni di natura amministrativa, 24 responsabili di reati prevalentemente ambientali, 26 lavoratori in nero ed elevato sanzioni per 700 mila euro. Giovedì è stato in visita a Coriano il presidente della regione Stefano Bonaccini accompagnato dall'assessore regionale al bilancio la riminese Emma Petitti e a Coriano. Non poteva mancare una domanda sul delicato tema degli inceneritori. Noi stiamo andando verso l'approntamento del piano regionale sui rifiuti che era già in adozione, dovremmo andare in approvazione anche accettando di correggere alcune cose e ne discuteremo nelle sedi opportune confrontandoci con tutti, lo stiamo già facendo. D'altra parte la nostra prospettiva è di portare la raccolta differenziata oltre il 70% nel 2020 e questo permetterà di andare alla chiusura delle discariche più o meno tutte e poi progressivamente si potrà, se quelle saranno le dimensioni degli interventi, anche qualche inceneritore vedere di poterlo perfino chiudere nel futuro. Per quanto riguarda invece i rifiuti provenienti da altre regioni, quale sarà la tendenza della regione? Non mi piace chi pensa di risolvere i problemi lasciando da solo chi ha dei problemi. Certamente però stiamo facendo una riflessione, non abbiamo ancora deciso perché un conto è dare una mano a chi è in difficoltà per una volta, un altro è quello di dover essere coloro che raccolgono ciò che altri non riescono a fare e quindi su questo saremo molto rigorosi. Io devo avere un grande prato, una doccia di rugiada, che cos'è? È un giorno storico direi, anche perché nella velocità dei tempi loro si sono insediati il 29 di dicembre quindi siamo al 16 di aprile e siamo riusciti a portare qui l'assessore regionale Emma Petitti e il presidente quindi per noi è un grande giorno. Avete fatto visitare al presidente della regione le strutture legate alla solidarietà perché insomma a Coriano ce ne sono diverse. Sì, Coriano si candida ad essere la città del sociale ma perché geograficamente ha delle realtà che esistono già quindi il mio impegno è solo quello di portare queste realtà all'attenzione anche della regione. Da Coriano scendiamo a Riccione dove in settimana il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2015, il primo dell'amministrazione Tosi, 4 milioni di risorse in meno dalle governo a cui fare fronte comunque sono state approvate altre misure anche tra qualche polemica. Vediamo. Tributi invariati con conferma delle esenzioni, riduzione delle spese soprattutto quelle per incarichi esterni ed è già abbottato come vuole la legge un piano di dismissione delle partecipate come Apea ma anche le farmacie comunali. L'indebitamento è sotto controllo assicura l'assessore Monaco con mutui estinti che superano quelli contratti. Il personale di 442 unità, un peso di 17 milioni equivalente al gettito IMU. A parte tre pensionamenti non sostituiti non ci saranno tagli ma riorganizzazioni e per coprire i tagli dal governo sacrifici per tutti gli assessorati tranne un paio. Abbiamo provveduto a razionalizzare importanti spese, in modo particolare un taglio nei confronti della nostra partecipata più importante che è GEAT di ben un milione di euro e nel restante quindi per ben tre milioni di euro abbiamo cercato di recuperare in tutti i settori avendo però a cura come priorità soldi a favore del sociale dove abbiamo addirittura aumentato le poste per circa 600 mila euro e al turismo dove abbiamo mantenuto ed in parte aumentato perché il turismo è la più grande risorsa economica di questa città. Invariata la tassa di soggiorno, questione assicura il sindaco, chiarita con gli albergatori degli 1,2 milioni di mutuo annuo per il Palace, un milione viene proprio da lì ma l'obiettivo è liberarla. Capiamo perfettamente che non è la tassa migliore, la più bella di questo mondo oggi però è una tassa bloccata in questa amministrazione dal pagamento della rata delle pala congressi quindi la prima attività da farsi è liberarla da quella gabbia e restituirla alla sua naturale istituzione. Avremo poi in quel caso la libertà di decidere assieme agli operatori di che farne. Il bilancio sarà tradotto in linguaggio comprensibile ai cittadini e recapitato nelle case a breve. Il PD, ieri uscito al momento del voto, recapita invece nuove accuse. Oltre alla promessa non mantenuta di abolire la tassa di soggiorno, la divisione della città in due, quella del salotto dove non si bada a spese e quella produttiva sopra la ferrovia alla quale non si bada. A San Leo, appena venuto alla luce appunto questo progetto di una discarica nella zona di Piana della Selva, i cittadini si sono subito attivati per dire il loro no, no, che è sostenuto in questo momento anche delle amministrazioni locali che non vedono di buon occhio il progetto. Noi ne abbiamo parlato con la rappresentante del comitato. Là dove c'era il bosco potrebbe sorgere una discarica. A San Leo c'è grande preoccupazione per il progetto della società Sant'Arcangiolese, proprietaria del sito Pian della Selva Fontanelle, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti e rifiuti speciali non pericolosi. Quando a febbraio la proposta è arrivata sul tavolo del comune e si è appresa la notizia, i residenti si sono subito raccolti in comitato per dire no alla discarica in un luogo per lunghi anni sfruttato come cave e finalmente rinaturalizzato. Innanzitutto la presenza della flora e della fauna che ci sono in questo luogo sono preziosiste nel nostro territorio. Non parliamo solo di caprioli e cinghiali, parliamo anche di anfibi e di rettili, di specie protette, perché a questo luogo si è riappropriato della sua natura selvaggia in un certo senso in questi anni. Ed è un luogo che è sfruttato per tanti anni, quindi è già una ferita paesaggistica per il territorio. E in una visione un po' più ampia San Leo viene considerato uno tra i borghi più belli d'Italia, bandiera arancione e vive di turismo ed attività indotte dal turismo. Quindi significherebbe mettere in ginocchio tutta la parte turistica, non solo di San Leo, ma dell'intera Val Marecchia. Questo impianto verrebbe chiaramente visto anche dalla fortezza di San Leo. Posizione critica sulla discarica è stata espressa anche dal sindaco Guerri, da diversi esponenti istituzionali, dal presidente della provincia Agnassi ai consiglieri regionali Rossi e Pruccoli allo stato di San Marino. Ma l'attenzione dei residenti resta alta. L'11 maggio ci sarà la valutazione di impatto ambientale, la via, e dovranno essere presentate le osservazioni da parte di enti e cittadini. Qui non si sceglie solamente di costruire perché si è proprietario di un luogo. Noi pensiamo che in questo posto sia doverosa farsi la domanda da parte di tanti, non solo della società che propone il progetto, ma anche della provincia, anche del comune, quale linea tenere per mandare avanti le sorti della Val Marecchia. A Rimini sono state presentate le iniziative per l'anniversario della liberazione, un anniversario importante a quest'anno perché è il settantesimo, e tra i testimoni c'è anche l'attuale presidente dell'associazione Partigiani, la sezione di Rimini, Walter Vallicelli, che oggi ha 88 anni e fece parte della Resistenza e la sua è una testimonianza importante. Il settantesimo quest'anno della liberazione, ecco, per chi c'era all'epoca, cosa significa questa data? Se ne devo dire la verità, una grande sofferenza per me, perché mi vengono in mente le cose più orrende, come quelle di Sette Fratelli Cervi, io quando mi fu comunicato io non ci credevo, babbo non è possibile, Sette Fratelli tutti in uno, no, hai capito male, e mi fece capire che avevo capito bene. Non mi vergogno, ogni volta che tratto questo argomento mi vengono le lacrime agli occhi. Per me è un ricordo dolorosissimo, Sette Fratelli contemporaneamente, Adelmo ha perso il padre e sei zii nello stesso attimo. Come si può credere a una cattiveria del genere, a una criminalità di questo tipo? Io nelle scuole trago la forza di continuare a combattere la mia battaglia. Entro nelle scuole stanchissimo, stanco, ma stanco veramente, e dico con mia moglie basta, basta, non ne posso più, quando esco non agito le mani perché ho paura di prendere il volo, di alzarmi. I ragazzi mi trasmettono a me questa forza, questa tenacia, questa resistenza, e la parola resistenza mi dà forza. È stata la settimana della festa per il Rimini, che con il successo di domenica scorsa ha raggiunto la matematica promozione in Lega Pro. Lunedì sera nella nostra trasmissione Calcio.basket è stato ospite il presidente del Rimini, Fabrizio De Meis, che ha parlato di tante cose, anche del futuro della curva e della pista di atletica, ma anche dell'addio a inizio stagione del tecnico Campi. Lungo, allora ascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni. Stiamo cercando di chiudere tutte le posizioni, devo dire, manca poco, non pochissimo, ma rispetto a quello che avevamo manca poco, e chiaramente il supporto e l'aiuto della città, anche magari dei più scettici, come è giusto che fosse per un progetto nuovo, per una società nuova, sicuramente ci possono aiutare, soprattutto secondo me, a fare un progetto più stabile e più ambizioso. È evidente che una società di calcio che rappresenta la città ed esprime la potenzialità della città, maggiore risorse riesce a raccogliere, più ha la possibilità di investire. Deve passare un messaggio chiaro, non è che senza l'aiuto della città non facciamo calcio, è che con l'aiuto della città possiamo fare calcio in maniera stabile e in maniera più importante. Io credo che una piazza come Rimini possa ambire a palcoscenici anche superiori a quelli della Lega Pro. Ci piacerebbe fare una sorpresa più grande che quella dei distinti. Vediamo se durante la calda estate ci riesce il colpo a sorpresa. Urca. Che riguarda quel settore o riguarda magari quel settore che adesso è un po' storto? Sì, riguarda. Riguarda quel settore che adesso è un po' lontano dal campo, un po' storto, invece si vorrebbe tanto avvicinare al campo. Noi lo vorremmo tanto vicino al campo, poi vediamo. Poi gliele abbiamo vendute tutte e sono finite. Poi scopo l'anno prossimo cambieremo sponsor tecnico, ce ne abbiamo proprio poche per finire la stagione, poi ci dobbiamo preparare a quello che ancora nessuno ha parlato, ma è una cosa che ci tengo io, ci teniamo tutti, che noi abbiamo una pulscudetto dove vogliamo andare da protagonisti cercando di giocarci le nostre carte, faremo di tutto per diventare campioni d'Italia, giocare l'anno prossimo col tricolore sulla maglia. Con il Miss e con Campilongo dopo la partita di Coppa Italia, lui disse che dal suo punto di vista lui voleva che richiudi Pera e Gambino non fossero ceduti, che fossero rimpiazzati con altri giocatori. Credo che Adrian rimarrà con noi, la logica dovrebbe dire quello da entrambi le parti. Avremmo voglia di fare una festa in piazza, proprio a Piazza Cavour, però devo essere sincero siamo un po' indietro, non abbiamo nemmeno parlato col Sindaco, proprio perché siamo sotto effetto sbornia dalla vittoria, perché veramente guarda, io ancora non ci credo, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. SEMS è tutto, vi ricordo i nostri telegiornali tutti i giorni, sui cari tv alle 19.15 e 20.15, grazie per averci seguito dalla redazione, una buona domenica. Grazie per aver guardato. A presto. A presto. Grazie a tutti.